E' il cinquantesimo anniversario della Fiera Antiquaria di Arezzo e la Fondazione Bruschi, con la sponsorizzazione di Ubibanca, rinnova l'appuntamento con la stagione concertistica internazionale. Giunta quest'anno alla tredicesima edizione, tra febbraio e aprile, si arricchisce il calendario di concerti rispetto agli scorsi anni e presenta musicisti di altissimo livello, vincitori di prestigiosi premi internazionali con la direzione artistica del maestro Roberto Pasquini. Come sempre abbiamo un vincitore di concorso internazionale che è Ivan Krpan, questo giovane croato che viene il 23 di febbraio a inaugurare la stagione con un programma molto bello, tra l'altro Beethoven, Schumann e Chopin. La stagione snocciola altri grandi personaggi, uno addirittura in esclusiva assoluta che è Jacques Zun, primo flauto di Berliner Philharmoniker per diversi anni e poi flautista prediletto del grande Claudio Abbado, compianto direttore italiano. Si comincia con la musica ma ben presto, entro la metà di febbraio, verrà pubblicata una brochure con tutta l'attività annuale della fondazione che coinvolge la musica ma coinvolge anche mostre, presentazioni di libri, anzi con personaggi piuttosto importanti come Angela Terzani, la moglie di Tiziano Terzani, insomma tutta una serie di situazioni che dovranno convogliare su Casa Bruschi la città con i suoi interessi e le sue passioni. Veramente interveniamo con grande favore, con grande positività nei confronti di questa manifestazione che è la tredicesima edizione, che veramente promuove la città di Arezzo nel mondo, promuove l'arte e la cultura di questa bellissima città.